Giacomo Casadei, qui a Cattolica, è iniziato il suo 2016, uno dei junior più bravi che abbiamo in Italia. È partita presto questa preparazione? Sì, è partita presto e è andata bene. Sei pronto per un campionato anche fatto ad aprile? Sì, adesso vediamo se va bene, speriamo che vada bene. Adesso ho i cavalli che stanno andando abbastanza bene e speriamo che vada bene. Chi stai montando adesso? Io ho un cavallo che faccio le gare abbastanza grandi, si chiama iForever, poi monto un altro cavallo Sandokan e una cavalla molto buona, Tush d'Aroganza. L'istruttore è tuo papà? Sì, mio papà è un istruttore. Conosce qualcosa il circuito di crescita? No, non conosco niente. Per cui farai, sei a disposizione del CT Eric Luradur, l'hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto, lo conosco di vista, una vera persona. Avete già parlato? Sì, ho parlato, l'ho salutato, ma ancora discorsi non ho fatti. Siamo all'inizio, per cui aspettiamo un attimo per farle via più chiare. Sì, grazie mille Giacomo. Prego.